buongiorno buongiorno a tutti e buona domenica per questo nuovo incontro con filosofia del momento edizioni k bit e oggi siamo nella libreria ubic di frosinone della famiglia federico che è una libreria familiare una libreria che è diventata diciamo il centro culturale di di frosinone per tutte le attività che fanno ma adesso ne parleremo perché oggi noi siamo in compagnia di milana durante che ciao milana scusami che come sai siamo qui in libreria per cui diciamo che devo mantenere gente insomma adesso fa un po comincerà anche la presentazione qui con gli altri per cui devo mantenere una certa discrezione comunque mia durante dottoressa di ricerca in sociologia teoria e storia delle istituzioni presso il dipartimento di scienze politiche della comunicazione università di salerno è responsabile dell'osservatorio sulla cooperazione alla sicurezza del mediterraneo e collabora con la cattedra di istituzioni di diritto pubblico e anche una di diritto interculturale giusto soprattutto minena si occupa dei rapporti tra nella relazione fra la sfera pubblica nazionale e sovranazionale la libertà religiosi i rapporti tra decisore pubblico e portatori di interessi diciamo che questo è un inter questo diciamo si è un attivo di studio che tu fai da un punto di vista anche giuridico e sociologico è che come sai condividiamo questi interessi sulla laicità e sui rapporti fra religione e politica anche se mi occupo a livello filosofico questo questo progetto di oggi ti ringrazio per aver accettato di discutere con noi del libro a cura di coratti no cittadinanza e costituzione che porta a un sottotitolo veramente interessante che è stato anche diciamo al centro di molti nostri dibattiti anche molti nostri discussioni che ripensare la comunità ripensare la comunità noi abbiamo fatto anche dei seminari dei convegni internazionali su questo proprio perché noi crediamo che sia il compito fondamentale di chi studia dell'intellettuale dello studioso volgere il proprio il proprio sforzo il proprio e anche il proprio impegno non soltanto nello studio accademico o nella ricerca fino a se stesso fino all'insegnamento o per proseguire ricerca ma soprattutto perché è sempre necessario che lo studioso rivolga al suo impegno a ripensare la comunità perché l'umanità cambia cambiano le prospettive della società e chiaramente bisognerebbe sempre aggiornare no le questioni come tu ben sai e ripensare la comunità dunque è stata una grande intuizione come abbiamo fatto anche con altri con altri colleghi soprattutto è stata grande intuizione perché noi abbiamo cercato e qui tu sei stata protagonista di connettere l'università le scuole superiori e le librerie ecco volevo parlare un attimo di questo punto importante cioè una una casa editrice come k bit ha avuto questa grande intuizione di creare dei testi degli ipertesti che sono degli strumenti tecnologici per avvicinare gli studenti all'utilizzo del testo del libro per cui quando abbiamo diciamo ripensare la comunità non lo diciamo soltanto perché i contenuti che adesso vedremo discuteremo con te sono contenuti che ci fanno aggiornare il pensiero rispetto al diritto rispetto alla alla società ma anche perché proprio l'oggetto libro va rivalutato per quello che è il suo approccio sulla razionalità un altro punto focale sono librerie le librerie indipendenti che nelle periferie delle grandi città oppure in centri come frosinone sono diventati gli aggregatori culturali importantissimi perché qui è il posto dove ci si può incontrare e l'oggetto libro diventa uno strumento diventa uno diventa un tramite perché per canalizzare la questione culturale ecco io prima di passare alla questioni veramente del libro e del tema che tu hai i due contributi nel testo importanti lo parlare attivo un attimo la tua esperienza nelle scuole quando aveva portato il libro alle scuole con kbit e anche magari come tu vedi la questione universitaria rispetto al libro rispetto a nuove tecnologie ecco sì io intanto saluto tutti saluto tutti le persone che ci stanno seguendo in diretta ti ringrazio e ringrazio l'editore edizioni kbit e Antonio coratti per avermi ehm coinvolto in questo in questo progetto che io ho sposato fin dall'inizio nel senso che mi sono messa subito a disposizione eh per contribuire a mio modo eh nel mio piccolo insomma a questo progetto e mh hai detto tutte cose assolutamente esatte nel senso che ehm si tratta di un progetto che cerca appunto dicevamo che ha questo questo nome eh ripensare la comunità quindi cerca di avvicinare innanzitutto eh le varie categorie di cittadini a ehm alla comunità in senso lato quindi a capire e eh a cercare di comprendere eh quelle che eh che sono diciamo le dinamiche eh all'interno di uno stato e quindi anche eh capire come contribuire per un ripensamento effettivo che parti dal basso quindi è una eh una sorta di potrei dire lobbying dal basso no? Che è una un questa attività di di pressione di eh rimodulazione di quelle che sono appunto eh le attività ehm di eh di uno stato e le la mia esperienza diciamo nelle scuole che ho fatto grazie a voi grazie a filosofia e movimento è stata assolutamente positiva nel senso che io ho avuto eh modo di eh entrare nelle a scuola secondaria quindi nelle scuole superiori sia eh prima che mh questo testo ehm come dire uscisse quindi che mh fosse fruibile per gli studenti e dopo devo dire che mh noto delle differenze nel senso che quando sono eh stata nelle scuole a fare dei progetti sempre sulla questione della cittadinanza e costituzione che sappiamo appunto essere oggi una 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 materia eh diventata materia eh di esame per gli studenti del quinto superiore soprattutto quindi devono conferire sulla questione di cittadinanza e costituzione e diventare dei cittadini ehm anche consapevoli ecco ehm devo dire che eh quando appunto ehm sono eh stata in queste scuole eh senza un testo di riferimento come quello appunto di cittadinanza e cittadinanza e costituzione vedevo mh i ragazzi piuttosto spaisati quindi non avevano una una linea guida per riuscire a capire a comprendere eh tutto quello che è sotteso alle questioni alle alla alla nozione di cittadinanza e di costituzione chiaramente con un testo ehm con questo tipo di testo invece ho visto eh ehm come dire il l'esperienza in un liceo di Roma eh poco prima della della pandemia è stato uno degli ultimi diciamo incontri che è stato possibile fare in presenza poco prima appunto che il tutto scoppiasse ehm mi sono resa conto che i gli studenti erano molto più consapevoli eh quindi facevano domande erano ehm incentivati anche a ehm scoprire di più rispetto a quello che c'è eh semplicemente che si trova sul testo ed è per questo che anche credo che lo strumento del QR code quindi questo testo anche multimediale multimediale che rimanda a dei video eh a dei testi eccetera eccetera mh sia stato assolutamente diciamo positivo quindi abbia portato gli studenti ad avere una maggiore ehm curiosità nei confronti di questa materia di questa eh cittadinanza di questa costituzione che sicuramente mh è avvertita sempre un po' mh lontana dagli studenti come qualcosa che non ci appartenga effettivamente ma che in realtà ehm come dire ehm ci coinvolge in prima persona eh nella nella realtà delle cose e la stessa cosa avviene poi ehm nell'università nell'università io mi ritrovo a ehm dover come dire mh seguire gli studenti del primo anno che si approcciano per la prima volta alla materia del diritto pubblico e quindi allo studio anche della costituzione del testo eh della costituzione anche lì eh se non ci fosse appunto un testo di riferimento come questo eh la ehm l'approccio sarebbe sicuramente più complicato e meno come dire eh meno semplice ecco quindi sono assolutamente mh ho avuto insomma dei feedback assolutamente positivi addirittura insomma nel liceo romano eh subito dopo la presentazione quindi questa questa breve presentazione che ho fatto del testo e dei dei ovviamente dei miei contributi alcuni ragazzi eh conclusa la la discussione conclusa insomma il seminario chiamiamolo così ehm sono venuti eh anche anche dopo a fare domande erano molto ehm molto curiosi e quindi mh assolutamente feedback feedback positivo ecco eh ti ringrazio perché la tua testimonianza è molto importante io poi volevo anche fare appunto grazie anche alla regione Lazio che ha pensato di stimolare questa riflessione no tra editori librerie e docenti universitari ricercatrici come te che magari lavorano tutto il giorno se non i ragazzi sia proprio sulla ricerca ecco secondo me è molto importante questo progetto perché eh fa riflettere tutti me ha fatto riflettere molto quando mi sono proposto di fare questi interventi perché se ci penso bene la mia esperienza qui anche in una città capologo di provincia per Frosinone prima del duemilasette quando quando ehm a giugno del duemilasette la famiglia Federico ha aperto questa libreria Frosinone praticamente le librerie erano sparite cioè parliamoci chiaramente la questione è molto grave perché un cavoloco di provincia che a un certo punto si è trovata senza librerie ehm perché perché negli anni novanta inizio anni duemila c'era stata questa ombriacatura del web dove praticamente il libro sembrava qualcosa di diciamo di inutile no di superfluo e per cui per cui c'era stato uno scoraggiamento da parte di tutti c'era stato diciamo così un arretramento della dell'idea del libro proprio come mh strumento ma anche proprio come tramite ecco che l'uomo di tramite invece la famiglia Federico ha fatto questa ha avuto questo coraggio di riaprire una grande libreria Frosinone e cosa ha fatto? In pratica ha diventato veramente il punto centrale di connessione fra la scuola che è fatto di persone no? Professori, studenti, famiglie e eh studiosi che ovviamente si ritrovano qui e hanno e hanno rimesso in piedi una sorta una sorta di piazza reale in cui si incontra la cultura ecco Regione Lazio ha fatto questo questo interessante proposta anche a noi di ragionare su questo aspetto e noi lo facciamo con un libro molto molto particolare perché appunto come tu hai detto quando vai nella scuola con un libro che avvicina lo studente non solo al testo cioè proprio all'oggetto non solo ma lo avvicina sia la studiosa che ha scritto infatti tu sei andata il liberi sei andata apposta alle scuole a presentare ciò che tu stesso hai scritto ma poi loro sono mh portati i ragazzi tramite il QR code a interagire con tutte le dinamiche del della delle tecnologiche no? I video che spiegano la costituzione i dibatti di convegni e questo secondo me è un aspetto un aspetto che fondamentale che mette in connessione ciò che di buono c'è la tecnologia ciò che di buono c'è la modernità la con te nostra ma ciò con ciò che realmente l'uomo ha bisogno appunto ha bisogno di spazi come questi che sono adesso io ha bisogno di che che una studiosa come te venga in questi spazi e rincontri le persone nei posti dove si fa cultura dove si discute di cultura adesso però vorrei farti anche qualche domanda sui contenuti se mi permetti no? Perché ripensare la comunità tu hai scritto due i contributi molto interessanti sovranazionalità e integrazione no? Alla ridice dell'idea d'Europa questa secondo me eh intanto ecco cominciamo da questo ce lo spieghi anche brevemente perché vorrei capire la questione di sovranazionalità integrazione come tu l'hai declinato nel testo. Sì allora ehm partendo ovviamente dalla ehm presupposto che si trattava comunque di un testo che era ehm rivolto ovviamente a eh studenti di scuola secondaria quindi diciamo della delle scuole superiori e in particolare diciamo del delle quarte e quinte classi no? Ehm è chiaro che i contributi eh che ho scritto sono dei contributi mh dove ho semplificato molto le questioni no? Eh dove ho cercato in questo primo contributo mh di cui tu mi chiedi eh ho cercato appunto di ehm spiegare sinteticamente schematicamente quello che è stato il processo di integrazione che ha portato alla creazione dell'Unione Europea così come la conosciamo oggi quindi questo processo di integrazione che eh dura da circa settanta settant'anni e potremmo dire che è ancora assolutamente in corso eh ce lo ce lo fa a vedere anche la la questione della Brexit quindi questi paesi che entrano escono insomma è un processo di integrazione ehm assolutamente in corso e che eh come dire ho cercato appunto di schematizzare quindi mh ho individuato i vari punti nodali di questo quello che è questo processo di integrazione eh spiegando quali sono stati i vari trattati che hanno portato alla ehm creazione dell'istituzione dell'Unione Europea così come la conosciamo oggi ehm focalizzandomi in particolare su che cosa? Su eh quelle che ehm erano poi diciamo eh le radici no? Io ho questo 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 contributo mh parla di in sovranazionalità integrazioni partendo dalle radici di un'idea di Europa in effetti io da cosa parto? Dalla dall'idea eh che nasce nasce dove? In una piccolissima isola del mar eh Tirreno che è l'isola di Ventotene grazie a ehm diciamo personaggi importantissimi come Artiero Spinelli che eh da Ventotene dove erano confinati perché antifascisti eh cercano di sollevare questa voce di appunto questo manifesto per una un'Europa appunto eh unita che riuscisse a superare quelli che erano gli odi, gli antagonismi insomma che il conflitto mondiale aveva fatto eh nascere quindi cerco di appunto eh porre l'accento su tutte quelle che sono i vari eh punti più importanti di questo processo di integrazione per rendere appunto gli studenti consapevoli di quella che è la nostra storia ehm culturale che ci accomuna a tutti gli altri paesi tutti gli altri stati membri del dell'Unione Europea perché in effetti io eh anche in alcune note bibliografiche quindi diciamo questi contributi hanno anche la ehm la forma di contributi scientifici quindi gli studenti si approcciano anche a dei contributi diversi rispetto a quelli a cui si approcciano normalmente eh si approcciano appunto alla alla metodologia accademica no? Eh quindi ci sono queste note a piedi pagina dove eh metto in evidenza che in effetti eh c'è una sorta negli ultimi anni soprattutto di distaccamento eh dell'opinione pubblica dall'idea iniziale d'Europa e eh cerco appunto di ehm problematicizzare questa questione quindi di indurli anche anche alla riflessione appunto ritorniamo a quella che il 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 nome il titolo del progetto che è appunto ripensare la comunità quindi come la ripensiamo la comunità da che cosa dobbiamo ripartire? Assolutamente sì è stato comunque veramente il tuo è stato un intervento molto interessante considerando che comunque nel testo dovremmo anche uccidarli no? Ci sono anche diciamo dei mh degli studiosi di grandissimo livello no? Come Muro Montanari, Gianfranco Macri, Domenico Bilotti insomma ci sono contributi e adesso non ricordo neanche tutti per cui è grave potuto stare zitto però ehm insomma è un testo un testo molto interessante però i tuoi due contributi hanno mostrato anche l'attenzione di una studiosa giovane e questo chiaramente è un pregio in un certo non è non voglio dire cioè si vede che sei una studiosa giovane no? Però bisogna dire che il tuo intervento ha reso eh anche la possibilità di capire no? Dalla dal dallo studioso più importante eh più avanti con l'età fino a te come in questi settant'anni realmente c'è stata una grande riflessione e come la riflessione grazie appunto al tuo contributo è una riflessione che guarda al futuro non solo perché sei giovane ma perché sei veramente impegnata in questo campo no? Io so che il tuo impegno anche quotidiano anche militare in qualche modo su questo su questi aspetti. Poi mi è piaciuto ancora di più il concetto che tu hai potuto dare sul nuovo cittadino europeo perché perché appunto la la prospettiva eh coraggiosa militante anche diciamo così fresca scusa sei continenzista su questa cosa però tanto è solo l'invidia di che pianziano insomma eh però il nuovo cittadino europeo è così secondo me il tuo punto di vista se lo può permettere di dire di ragionare sul nuovo no? Il nuovo cittadino europeo eh che sopra questo nostro modo di lavorare collettivamente ha questo grande pregio se mi permette di fare un po' di auto di auto incensamento della nostra nostro collettivo. Il fatto che noi comunque lavoriamo anche a livello transgenerazionale ci permette di avere diciamo così la voce vea dello studioso giovane non soltanto pensare cosa pensa il giovane no? Abbiamo te che è più giovane di te insomma non lo so come si può fare e il nuovo cittadino europeo soltanto tu puoi dircelo veramente com'era com'è questo cittadino europeo nuovo? Allora questo intanto ti ringrazio per insomma queste queste belle parole che spendi nei miei confronti e e come dire è una stima reciproca quindi eh no eh come dire una ehm una collaborazione che è nata appunto sulla base di questa stima e mh questo nuovo cittadino europeo allora io mh sempre con la l'intenzione di eh riuscire ad arrivare ai gli studenti che eh come dire partono da una base eh molto come dire eh generale sulla conoscenza dell'Europa in generale in in come aspetto generale quello che eh cerco di mettere in evidenza di questo nuovo cittadino europeo considerando che il la nozione di cittadinanza europea quando nasce nasce con il trattato di Maastricht che appunto è uno di quei vari punti del 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 processo di integrazione quindi nel novantatré ehm insomma abbastanza di recente no? Eh non quindi mh nel momento in cui si pone la prima base eh per la costruzione della dell'Unione europea nasce in in un secondo momento quando cioè la eh l'Unione europea perde quella sua accezione mh economica per diventare anche un ordinamento di tipo mh politico e non solo appunto un'unione di tipo economico. Ehm e questa cittadinanza eh innanzitutto che cosa come dire mh cosa c'è di positivo in questa cittadinanza europea e ehm rappresenta uno status innanzitutto comune a tutti eh i cittadini degli stati membri che si va ad aggiungere a quella che è la cittadinanza nazionale quindi non va a creare una ehm una sommatoria delle due cittadinanze cioè quella nazionale e quella europea ma va ad aggiungere qualcosa in più tant'è vero che si arricchisce no? Diventando cittadini europei noi ci arricchiamo noi cittadini ci arricchiamo appunto di eh specifici diritti in più rispetto a quelli rispetto a quello che la Costituzione ci riconosce già di per sé e eh come dire questo questo è importante perché perché ci fa capire che noi non siamo più portatori di un'identità nazionale monolitica ma siamo portatori di una eh identità eh proteiforme che significa proteiforme cioè eh che deriva da quella pluralità di ordinamenti di cui inevitabilmente oggi facciamo parte perché facciamo parte di un sistema che è diventato multilivello quindi facciamo parte di un sistema dove troviamo la ovviamente il livello nazionale quindi lo stato italiano il livello appunto europeo ma anche un livello superiore sovranazionale sovra europeo che ci permette di fare che cosa soprattutto di vedere i nostri diritti eh fondamentali tutelati e questo è possibile grazie proprio a questo nuovo concetto di cittadinanza che è più ampio che si arricchisce e che permette alla nostra Costituzione di tutelare anche alcuni diritti alcune libertà che magari non sono ehm elencate diciamo in maniera tassativa nella nella nostra Costituzione. Sì ecco guarda tu hai detto una cosa molto importante e secondo me anche molto interessante cioè il fatto che tu hai percepito la questione del 93 di Maastricht come la fine no? No? Diciamo del focus europeo come un focus prettamente economico e come inizio di un processo di cittadinanza. Ora io che sono qualche generazione prima di te no? Perché diciamo che noi abbiamo ci siamo battuti idealmente nel nostro momento diciamo gli anni 80 90 insomma io comunque non sono così anziano come sembro per cui negli anni anni 93 ero ragazzo era un ragazzino anch'io e noi avevamo avuto grandi aspettative sull'inizio del concetto di cittadinanza in Europa secondo me c'è un percepito però dal punto di vista del 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 popolo europeo come se invece eh l'Europa fosse rimasta l'Europa delle banche anche l'Europa del eh del commercio no? E anzi diciamo che questo percepito è anche peggiorato perché di fronte a certe aspettative noi ci troviamo di fronte a una ritorica sempre economicista nel senso eh il quello vuole l'Europa questi tagli al welfare i tagli eh cioè il continuo confronto con gli stipendi che salgono e scendono nei vari paesi europei cioè comunque c'è sempre un dibattito intorno alla questione economica che comunque diciamo così è importante perché una una struttura sovranazionale ha diciamo una tenuta se riesce a mantenere diciamo le aspettative sociali e economiche delle persone ecco tu da questo punto di vista questo percepito eh da un punto di vista anche degenerazionale no? Come come vedi cioè tu pensi che ci possa essere un ehm prego prego ci possa essere una un miglioramento di questo cioè vedi che l'Europa si sta impegnando da questo punto di vista cioè a far capire l'aspetto anche eh dei diritti oppure anche la vostra generazione c'è un po' un piccolo malessere su questo? Allora diciamo che parto vuol dire che c'è ancora tanta strada da fare ecco quindi questo già come dire risponde alla alla tua domanda in effetti diciamo le ehm eh l'Unione Europea appare ancora come un'entità distante e di difficile accesso anche per le nuove generazioni ehm lo dimostra anche un po' eh la lotta no? Per l'ambiente che stanno facendo i giovani eh dove appunto si si vogliono vogliono interfacciarsi con con questi enti sovranazionali e li recriminano di effettivamente non fare nulla poi di concreto ehm se l'Unione Europea stia effettivamente ehm lavorando per creare questo avvicinamento eh come dire lo lo sta facendo a piccoli passi eh nel senso in maniera molto lenta in maniera molto lenta effettivamente no? Se se abbiamo detto che questo processo di integrazione dura da settant'anni non ci possiamo aspettare che eh la 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 nozione di cittadinanza europea diventi forte eh in così poco tempo se poco lo vogliamo definire ehm però eh diciamo ci sono delle dei piccoli strumenti attraverso i quali l'Unione Europea cerca di avvicinare il cittadino eh faccio riferimento alla possibilità ehm ovviamente mh di di eleggere no? Del dei rappresentanti insieme al al Parlamento piuttosto che eh di eh di di fare delle petizioni nei confronti dell'Unione Europea e quindi di recriminare qualcosa o ancora c'è la lo strumento della posta del cittadino addirittura che ovviamente sono degli strumenti che non sono molto conosciuti eh che forse l'Unione Europea dovrebbe appunto lavorare eh per far conoscere ancora di più e eh per cercare appunto di 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 creare questa connessione fra cittadini europei e eh queste istituzioni che viene vista lontana poi d'altra parte eh uno dei padri fondatori della dell'Unione Europea Jean Monnet ehm lo diceva cioè l'Europa è è è stata creata per i cittadini in realtà nasce è vero come un'unione prettamente economica però è stata creata per i cittadini e serve per i cittadini e quindi eh che cosa diceva lui? Noi non coalizziamo stati ma cerchiamo di unire uomini insomma questo era l'intento eh iniziale questo intento in effetti con gli anni si è un po' perso eh quindi come dire la sicuramente la l'aspetto che bisognerebbe riprendere è quello di ritornare alle origini sostanzialmente a quello che era il il progetto iniziale di Altiero Spinelli di eh di Giamonè di Schumann eh eccetera. Guarda questo ecco ti ringrazio perché allora innanzitutto come sai io in famiglia ho un giovane federalista nel senso che mio figlio ha ventun anni e lui è molto impegnato politicamente in questo movimento di federalisti europei e ho visto che questa generazione sua di ventenni di oggi che sono molto attivi su credono molto nella la possibilità che il che la comunità europea cioè che l'Unione Europea si trasformi realmente non in una sovrastato ma si trasformi in una federazione perché l'importanza della federazione sta tutto nel nome no? Mettere insieme mettere insieme piuttosto che essere sopra per cui questo secondo me già sarebbe una e questo che hai detto tu mi ha riportato eh alla mente un un giorno molto molto lontano della storia europea 1794 quando il Parlamento della rivoluzionario francese Giacobbino eh definì i motivi per cui costruire una repubblica no? Una repubblica per la felicità per la felicità di ognuno cioè lì per la prima volta in Europa e solo in Europa era successo era successo da moltissimi degli intellettuali napoletani sono stati primi negli ministri a dire che la bisognava costruire delle comunità politiche con l'intento di portare al massimo la la felicità la realizzazione di ognuno no? Questa è stata la grande utopia dell'immense napoletano che è stato proprio recepito poi nel 94 dai rivoluzionari francesi i quali quando si trovarono si trovarono in fronte a spiegare no? In una situazione di terrore di di grandissimi lozza che sai bene com'è la storia e disse no ma noi dobbiamo costruire al fine della felicità ecco sì hai detto una cosa molto interessante perché tornando a Monnema secondo me dovreste rielaborarlo voi anche proprio come generazione la federazione europea la comunità europea andrebbe pensata proprio in quest'ottica qui per cui anche l'economia è fondamentale non si può pensare una situazione così complessa di fare di fare i utopisti senza no sporcarsi la mani nel dibattito economico però c'è il dibattito dei diritti c'è il dibattito della cittadinanza che tu hai messo a fuoco benissimo il nuovo cittadinanza mi è piaciuto molto il tuo contributo e soprattutto va fatta una battaglia eh seria perché il distacco eh diciamo la credine il disincanto delle generazioni che sono tanti a voi che troppo facilmente si sono disincantate di fronte a difficoltà come se le cose si costruissero da sole no capisce io questa questa è una critica che faccio la mia generazione cioè la comunità europea quando quando è venuto l'euro quando sono venuti tutti i passaggi difficili io sono rimasto molto ehm demoralizzato ma anche dispiaciuto di vedere tanti amici che avevano creduto con noi alla comunità europea di staccarsi e diciamo sì disincantarsi perché l'euro ma chiaro cioè di tutte le questioni umane sono state costruite con grado di sacrificio la nostra generazione è toccato questo sacrificio di cambiamento che noi però dobbiamo fare come uomini un sacrificio per le nuove generazioni per cui che la mia generazione sia stata penalizzata è vero ma sarà penalizzata perché stiamo costruendo qualcosa no è questo è qui il senso sociale la tenuta sociale sta venendo meno quando vedo tutte queste lamentelle da purista politico no ci si lamenta sempre nella politica però la gente dovrebbe imparare a fare qualcosa in politica no da entrare in politica non che non si deve essere diputati o consigliere comunali significa entrare invece di un aperitivo in meno è una discussione equilibria in più capito cioè qui sarebbe importante cioè il passaggio che si è fatto sempre dal club del giacobino alla sezione del partito del piccolo paese no è tutta la tutta la modernità si è costruita dal basso come dicevi tu non la spinta dal basso per tu prima è questa la spinta dal basso venite libreria discutiamo andiamo in una sezione discutiamo creiamo il nuovo lessico per la coppia per una nuova europa ma per far questo ci vuole ci vuole anche sacrificio è chiaro che non ti rende inizio da immaginare fare l'euro diventavo tutti ricchi no ma che il discorso è ecco diciamo questa disaffezione un po populista che ha impedito no spero che venga riemarginata invece è rimesso a posto da persone come te che hanno eh idee più chiare hanno diciamo uno sguardo al futuro non è possibile pensare con una società che è già molto unita dai social dai viaggi facili no il fatto che uno oggi va può andare da Roma a parigino in due ore e non si può più pensare l'Italia e la Francia cioè adesso veramente adesso veramente siamo contro la storia contro l'evoluzione contro tutto cioè abbiamo costruito gli aerei aerei supersonici pensiamo andare sulla luna e siamo ancora qui a discutere di regioni province cioè è questo ecco questa mancanza della mia generazione secondo me spero sia ripresa invece con forza come stai facendo tu come stai facendo tanti ragazzi eh nel non nel senso utopico ma nel senso concreto come dicevi tu prima no cioè costruisce il nuovo cittadino europeo va fatto dal basso discutendo andando nelle scuole andando a librerie e facendo anche libri coraggiosi come questi ecco per cui da questo punto di vista ti ringrazio che mi hai fatto in mente questa questo aspetto importante eh la politica poi chiaramente questo è un altro aspetto cioè ci vuole una maggiore eh iniezione di nuovi di nuovi eh cittadini che si impegnano ecco questo non so come la pensi ma se o me l'impegno politico è un altro aspetto ehm allora sono dell'idea sicuramente che il disincanto di cui parliamo no questa disaffezione nei confronti di questo concetto di un'Europa unita di di una comunità di di intenti di obiettivi eccetera non appartenga più alle generazioni ultime nel senso che io vedo che le le nuove generazioni con qualche ovviamente resistenza ancora piccole ehm siano più consapevoli eh quindi eh siano più consapevoli e e abbiano come dire ben ben in mente quale sia effettivamente l'obiettivo ultimo di di avere una una eh istituzione una struttura come quella dell'Unione Europea eh quindi li vedo più pronti ecco rispetto magari alle generazioni passate ma anche alla mia stessa che mh come dire vedevamo un po' quest'Unione Europea lontana da noi e queste occasioni appunto di di discussione, di dialogo, di dibattito nelle scuole, nelle università o nelle librerie ehm creano appunto i presupposti per fare in modo che i giovani si avvicinino sempre di più a questa a quest'idea di Europa che deve riprendere appunto la eh il progetto iniziale, semplicemente quello, cioè c'è già il progetto, bisognerebbe semplicemente riprenderlo in mano e credo che le generazioni mh le nuove generazioni o le generazioni future eh siano in grado di farlo perché hanno tutti gli strumenti anche multimediali eh per farlo e dicevi bene no? La anche la possibilità di essere da Roma a Parigi, da Milano a Parigi in meno di due ore insomma questa tecnologia ma e questa è anche una ehm come dire una eh possibilità che ci è stata data dall'essere parte dell'Unione Europea perché grazie all'Unione Europea che noi abbiamo questa possibilità anche di eh di viaggiare liberamente, di circolare liberamente in quelli che sono tutti gli stati membri dell'Unione Europea quindi eh il i cittadini dovrebbero pensare mh anziché a eh come dire a guardare sempre il negativo quindi a tutto sempre a guardare sempre quello che non fa o che non ha fatto l'Unione Europea magari eh volgere lo sguardo su quello che ha già fatto e che sono delle degli obiettivi importanti insomma. Bene. Senti io beh ti ringrazio perché chiaramente rimarrei a parlare qui rimarrei a parlare qui fino a stasera però siccome appunto dobbiamo anche poi fare una discussione equilibria ehm secondo me sulla diretta sulla diretta online abbiamo fatto già abbastanza noi abbiamo questa questa nostra capacità di andare no? Di andare su su più fronti però ecco secondo me tu hai colto bene in tutti e due i tuoi disagi hai colto benissimo la questione ti ti ritorno a a fare l'invito che dovrai venire anche qua appunto a Frosinone Libria ma adesso riparte tutta la stagione delle scuole e dell'università ehm poi ci sarebbe anche l'altra questione sul Mediterraneo di cui parleremo altre volte insomma che è un'altra questione che riguarda la ripensare alla comunità e niente per cui io se anche il nostro se i nostri amici sono d'accordo io ringrazio la Regione Lazio per per questo per questo progetto ringrazio la libreria Ubic di Frosinone della famiglia Federico che ci ha ospitato e che adesso si ospiterà anche per un incontro qui e Filosofia del Movimento chiaramente diciamo così di cui facciamo parte e che siamo siamo impegnati a livello militante tutti i giorni su tutti i campi sia social sia virtuali che che reali. Grazie a Milena Durante e magari a noi rimaniamo rimaniamo anche dopo la diretta. Grazie.